Stasera è dura parlare perché abbiamo perso malamente, conteggi 14, 12, 13, 3 parziali e 3 set. Diciamo che non siamo pervenuti affatto, non abbiamo solo perso ma ci hanno umiliati, questa è la cosa che fa più male. Sono molto dispiaciuto perché abbiamo fatto in settimana una partita 18 dove abbiamo portato dentro gli aspetti tecnici importanti, abbiamo sviluppato tutto un lavoro sulla situazione traiettoria e ricezione e stasera invece l'abbiamo sempre subita questa palla. A parte l'ultimo set, il terzo set abbiamo cominciato a ricevere, infatti abbiamo fatto parecchie palle in mano ai pregiatori e poi abbiamo sbagliato, comunque loro sono nettamente più in forma di noi, molto più in partita di noi. La cosa che mi dà molto fastidio è che facciamo difficoltà ad entrare in partita e quando siamo in difficoltà, anzi che avere l'aspetto agonistico per cercare di reagire e accettare il confronto e soprattutto risolvere le difficoltà che si devono verificare, sembra quasi che accettiamo la situazione, ci nascondiamo, scappiamo, ci giustifichiamo dietro degli alibi e quindi non c'è proprio questa voglia di reagire sulle difficoltà, ma piuttosto che trovo delle giustificanti per togliermi e non mi assumo la responsabilità di voler giocare. Le responsabilità che poi tra l'altro non sono neanche delle responsabilità vere e proprie, quindi si tratta proprio di avere la voglia di mettersi in gioco e poi effettivamente la pallavolo è un gioco, quindi non capisco tutti questi drammi, ok, nel vorrei sempre, come dire, scappare dinanzi a delle difficoltà che si vengono a creare.